Tutto è Veronica Sartor Perfetto Allora Alzino le mani i signori che hanno lasciato le mogli a casa Siete fortunati Non vi faranno la... Ma io saranno mia beque Ma secondo ti Siete fortunati Piero spiega che cosa faranno Allora loro si esibiranno nella pole dance Giusto? È un'esibizione di ballo Ok? Tra il ballo e la ginastica artistica Giusto? Bene Perciò non ci resta altro che dare spazio a loro due Perché noi siamo ormai di troppo qui Signore... Anche perché puoi fare così Puoi levarti anche i pantaloni Gli uomini non ti vedono Signore e signori Le prossime concorrenti Irene Trento e Veronica Sartor Allora Wow! Love you guys! Лositionיב Dancaossa Grazie. 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 Irene Quinto e Veronica Sartor, le quasi vincitrici per noi due, le quasi vincitrici. Della serie questo lo so fare anch'io. Beh, io Mirko ho studiato per farlo. E sei stato bocciato, vorrei ricordartelo questo due volte. Tu dici che io non sarei capace di fare una cosa del genere. Può provare? Posso provare. Vai.